buonasera buonasera a tutti dalla Cirino Family ben sintonizzati sul nostro canale voi state sintonizzati e mi raccomando lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati ai video della Cirino Family e iscrivetevi e cliccate la campanellina perfetto, tanti pollicioni dice Graziana ora vi diamo un piccolo spoiler di dove stiamo andando stiamo andando in una località dove ci saranno due youtuber molto famosi è molto bella e molto mangiosa questi youtuber molto famosi sono seguiti da tanti bambini e anche da tanti adulti non vi diciamo chi sono restate sintonizzati però vi diciamo che il maschio sono una coppia diciamo ecco sono una coppia di youtuber e il maschietto il maschio non dare troppi indizi non dare troppi indizi vi diciamo soltanto restate in ascolto e continuate a vedere il video vi do una parolina sì, di una parolina me me e mi raccomando eh lasciate tanti like Luigi questa volta non vi saluta perché ora è offline e risolvete la letterina che vi ho dato la letterina, hai dato una letterina, chi le hai dato la letterina? papà la letterina quella parolina ah ho capito ho capito va bene Luigi non vi può salutare perché è offline fortunatamente sta ricaricando le batterie quindi oggi sarà una giornata molto molto movimentata soprattutto per me che mi dà la del filo da torciare molto sicuramente e restate aggiornati seguite il video ciao ciao